Allora mister Monopoli Potenza hai detto paradossalmente ennesimo crocevia della stagione No, deve esserlo, dipenderà da noi, da come l'affronteremo e dal risultato che riusciremo a fare però sappiamo di affrontare un Monopoli che ha cambiato, ma che ha cambiato con ottimi giocatori allenato da mister Torino che è un bravo allenatore quindi sappiamo che è una partita difficile ma sappiamo pure che in Potenza non si può fermare Vigila della sfida molto simile a quella di Brindisi, come motivazioni dell'avversario però sta insegnando che Potenza non deve guardare in casa altrui No, Potenza deve guardare se stessa, il modo in cui affronta la gara poi è normale che le gare verranno decise da episodi, speriamo di portarli a nostro favore Un'altra frase importante che hai detto in conferenza, hai detto ho visto che c'è un sorriso in più nella squadra Sì, perché credo che questo fa ben sperare, perché magari con un sorriso in più i tipi di lavori che vai a proporre sono recepiti in modo migliore Monopoli, squadra da temere Sì, è fatta da, come dicevo prima, da un allenatore bravo, ma anche da giocatori che sono arrivati nuovi che vorranno dimostrare che magari vogliono cambiare anche le sorti del Monopoli però noi a prescina al Monopoli dobbiamo scendere con la consapevolezza che stiamo affrontando una squadra forte ma che anche noi siamo sulla strada giusta